Avellino in campo questa mattina nell'unica seduta della giornata con la squadra che in vista dell'amichevole di lunedì contro la Casertana procede nell'adattamento sul manto sintetico del partenio Lombardi. Test che trasmetteremo in diretta su Prima TV e Tele Nostra alle ore 18 per il quale è aperta la vendita dei biglietti. 3 euro per la Curva Sud per la Tribuna Montevergine presso i botteghini dello stadio. 5 euro, primo allenamento questa mattina con il gruppo di Taurino per Ramsey Aya, il difensore sta bene, si è allenato costantemente con il resto della squadra e quindi non ha fatto registrare problemi fisici o di condizione. Hanno lavorato a parte Dossena e Aloy che non hanno preso parte alla seduta tecnica di possesso palla nello stretto. I due ormai sono separati in casa, così come Francesco Forte, mentre migliora la condizione di Mamadou Canuté che potrebbe giocare uno spezzone di partita lunedì contro i falchetti dopo le due operazioni, quella al ginocchio e quella alla spalla. Presente anche il nuovo attaccante della Primavera 3, Marco Mauri, arrivato a titolo definitivo dal Genova classe 2004. Si sono allenati regolarmente anche Tito e Di Gaudio, reduci da problemi gastrointestinali, mentre Rizzo è ancora a riposo per un problema ad una costola e Murano, il cui infortunio è meno serio del previsto, ha svolto allenamento in palestra.